Benvenuti in questo nuovo video, sono Orko Verde In questo video vi mostrerò tutti i contenuti in un solo video del DLC Independence Day che è uscito ieri La Rockstar ha rilasciato l'aggiornamento Independence Day senza dover aggiornare la nuova pace di GTA Sempre pace 1.34 Prima di cominciare però sicuramente mi farete questa domanda Prima che me la fate vi rispondo subito Praticamente ragazzi una volta che comprerete le cose aggiunte in questo DLC Independence Day rimarranno per sempre Quindi una volta acquistate non le perderete mai e potrete cambiare completo comunque sia indossare quelle cose O comunque sia avere quelle cose quando volete una volta acquistate Ovviamente prima che scada o prima che rimuovano i DLC Independence Day ovvero l'11 luglio Quindi acquistate tutte queste cose entro l'11 luglio così che le avrete per sempre Tranne il cannone pirotecnico Purtroppo ragazzi quell'arma una volta esauriti i colpi Diciamo non potrete più acquistarli dopo l'11 luglio Ma vi rimarranno le munizioni se non le avete terminate ancora Quando è scaduto comunque sia rimuoveranno l'espansione Quindi il DLC Independence Day Quindi dopo l'11 luglio Quindi mi raccomando ragazzi Detto questo cominciamo subito con tutte le cose aggiunte in questo DLC Come prima cosa se vi ricate dove ci sono le parti superiori di un qualsiasi negozio Noterete che ci sono nuovi gilet Magliette Nuove camicie sotto gilet e gilet del completo Ci sono nuovi occhiali ovvero occhiali casual Ci sono nuovi accessori Cravate e papillon Ci sono nuovi completi ovvero i completi che troverete dove c'è la commessa Riferiti sempre al giornamento in Independence Day Se vi ricate in un qualsiasi parrucchiere Noterete che ci sarà una nuova capigliatura e una nuova pittura facciale La pittura facciale americana è stelle e strisce Mentre la capigliatura si chiama miolette O mollette se si pronuncia così Comunque sia la capigliatura a me piace veramente tanto Infatti come vedete l'ho confermata Quindi l'ho diciamo fatta con questo stile di capelli Anche questa capigliatura e pittura facciale Se non la confermate quindi non la fate a meno una volta Poi potete anche rimuoverla Però se non la confermate a meno una volta Entro l'11 luglio scomparirà e non la potrete più avere Non potete più fare questa pittura facciale E nemmeno questa capigliatura Quindi vi consiglio di acquistarla a meno una volta Spendete quei pochi soldi per appunto farvela rimanere per sempre Ci sono nuovi cappelli e nuove maschere Cappelli praticamente speciali dell'aggiornamento in Deep Ends Day Tra cui i cappelli con le birre e altri cappelli vari Inoltre avrete anche nuove maschere Ovvero le maschere degli animali Presenti anche nella modalità competizione Due colpi e via Se vi ricatte alla munition potete notare due novissime armi Ovvero il moschetto che una volta acquistato non sparirà E il cannone pirotecnico che anche se acquistato Più le varie munizioni Dopo che avete terminato le munizioni E dopo l'11 luglio scomparirà definitivamente Quindi vi consiglio dopo l'11 luglio Di non terminare tutte le munizioni di quell'arma Così che facendo le catture moddate Che vi permettono di avere munizioni Le avrete per sempre Passando i veicoli nel sito Warstock C'è il Deliberator Al prezzo di 556 610.000 dollari scontato Inoltre sul sito Southern San Andreas Superatus.com C'è la Western Sovereign Una moto americana Che costa 90.000 dollari scontata Ragazzi queste sono tutte le cose Aggiunte nel ragionamento Independence Day Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un like Un commento Iscrivetevi al canale Condividete questo video I suoi vari social network E da AllCover A tutto noi ci vediamo Al prossimo video Bella